Giampaolo Cincione, capitano del Castel di Sangro, giornata importante, la vittoria di Ururi vi consegna la salvezza diretta, quali le sensazioni? Sensazioni, è stato un altro campionato di sofferenza, l'anno scorso la salvezza è arrivata all'ultimo secondo nei supplementari contro la Gliternina, quest'anno fortunatamente siamo riusciti ad evitare i play-out, a salvarci con 90 minuti d'anticipo. Dal punto di vista personale cosa vuol dire per te essere capitano di questo gruppo, di questa squadra? Ovviamente motivo d'orgoglio perché portare la fascia della squadra del mio paese, della mia città, perché è motivo ovviamente di orgoglio. Poi sono uno dei pochi castellani rimasti, non so se l'anno prossimo ci sarà ancora perché l'età si fa sentire, quindi godiamoci questa salvezza e poi ci sarà tempo per riflettere sulla prossima stagione. Per Castel di Sangro che ha vissuto fasti importanti nel calcio che conta, l'eccellenza adesso è sicuramente un punto importante per costruire qualcosa di buono anche in futuro. Forse quei tempi che tutti si ricordano e che ci hanno fatto comunque conoscere a livello nazionale erano anche troppi per la realtà di Castel di Sangro. Quindi la storia ovviamente non si dimentica, la realtà è che dobbiamo confrontarci con un campionato di eccellenza molisana, che ricordo giochiamo sempre fuori regione noi, e niente speriamo comunque dopo qualche anno di sofferenza, l'anno scorso è arrivato il presidente di Tora, adesso vediamo un attimo di sistemarci meglio e magari di programmare una stagione di buon livello che magari ci porti anche a fare un salto di categoria. Io dico sempre che Castel di Sangro, forse la Serie B per Castel di Sangro era troppo, ma l'eccellenza forse è poco, quindi vediamo passo dopo passo, vediamo, vedremo.